ma guarda quello che ho visto io ciò non giustifica mai la violenza quello che ho visto io è stato innanzitutto un atto terrificante di bullismo tra l'altro poi alimentato da una voglia di hype perché da quel poco che ha detto e non ha fatto fisicamente lì ma tu non mi hai mai citato mi mettevi in mezzo, citavi altra gente invece l'hype me lo prendo solo me lo prendo io l'hype con il telefono in mano, guardate adesso guardatemi, è stato proprio qualcosa di terrificante, infatti è strano che certa gente comunque sia andata contro social bull, io voglio dirlo voglio fare i nomi, gli arcade boys hanno detto delle cose del cazzo secondo me te la vai a cazzo purtroppo non l'ho visto, quindi non so che hanno detto non ti fai rispettare ma a parte quello poi in generale ma questo è victim blaming si chiama cioè concentrarsi sulla vittima e non sull'aggressore è una cazzata esatto poi vabbè io non so se lui abbia intenzione di rinunciare a quanto sono scelta sua ed è un messaggio sbagliatissimo è un messaggio secondo me sbagliato ma soprattutto per lui non è che puoi obbligarlo allora è un messaggio sbagliato prima di tutto proprio sul livello della community perché queste qua purtroppo sono cose che so capitate guarda recentemente anche al maestro che uno gli ha dato e il maestro oggi schiava uno gli ha dato un buffettino dietro alla capoccia mentre stava in live quindi sono cose che succedono per i ragazzetti più piccoli che quindi dicono che cosa rischio nulla anzi posso prendere hype passa un messaggio sbagliatissimo poi soprattutto per lui che è uno che insomma ha la fila di gente che gli vuole spaccare culo purtroppo social boom parliamoci chiaro e non mentiamo e che messaggio passa si è fatto più a pizza e non ha fatto niente domani ci posta un altro che dice o prende a pizza e magari te c'è un ritorno e infatti io è orribile dopo questa vicenda ho cominciato a fare pensieri un po' particolari cioè in quest'ultimo mese ma non per la nostra assenza ma credo anche per il discorso del coprifuoco o per la moda ci sono state tantissime Irl molto particolari e infatti Twitch ha anche preso delle diciamo ha preso delle dei provvedimenti si dei provvedimenti comunque hanno bannato questo Ercole quest'altro ragazzo che poi è entrato nella vicenda su Ercole ho sentimenti ambivalenti ti dirò posso dire potrei riassumere con una frase di un poeta ovvero guerra tra falliti virgola non mi interessa dai vabbè ma che c'è però in generale ma perché devi dare del fallito a Ercole è una citazione però no cazzo da parte anche lui mi sembra che si sia accodato a questa roba del vado in hype con con la violenza si e il verbale a tratti anche fisica questa lui è stato intervistato da Xivion e lì ha detto no io me la prendo solo con i prepotenti quando in realtà c'è un uomo di 35 anni che alla minima provocazione di uno sbarbatello gli risponde con il carico da 12 non è prendersela con i prepotenti è cercare Roma tra l'altro anche ieri mi hanno taggato su alcune storie grazie è una conseguenza per noi pubblico perché sono stati pubblici già prima però è comunque un personaggio che anche lui si sta adattando a questa cosa perché vede che funziona semplicemente infatti la mia domanda era questa Twitch sta intervenendo in Italia credo ma in generale sta intervenendo anche perché comunque questo discorso dell'Ivirla è un po' particolare intanto già in Italia è in format ambico perché non potresti neanche riprendere tutti senza alcun senso quindi già parti un po' così poi vedi il gabrone succedono determinate cose non per forza per colpa sua social boom Elia Baby Fabio Z l'altro giorno che è successo a Fabio Z un tizio ha fatto vedere i genitali e il culo in live quindi a un certo punto anche l'immagine che Twitch dà all'esterno comincia a diventare impegnativa no? cioè che è diventato uno street view ormai sì di violenza di bullismo di hype beast ma certo ma perché il pubblico in realtà principale di Twitch mi sa che è quello cioè i ragazzini un po' in fissa con lo street il dibattito che sia verbale o fisico tira sempre e poi metti pure che dal discorso che fa un creatore dei contenuti che magari c'è Bazzica pure su certi atteggiamenti violenti è devo calcolare il rischio quanto mi devo impegnare e quanto mi ritorna attualmente per i messaggi che stanno a passare sembra conveniente a attuare violenza e questa è la mia preoccupazione secondo me capisci che il cebro podcast era in pausa non c'eravamo noi a regolare un po' hai capito se no pure Ercole se no pure Ercole vieni qua pure tu Ercole tu e Elia va da Livio Marcone Ercole vogliamo vogliamo fare un handicap match no no match un handicap match tra l'altro anche quindi tipo Ercole contro Elia mi lego il braccio sinistro tra l'altro anche Elia è stato ospite di qualche canale se non sbaglio anche di Tyler Strikes ah si e la cosa che mi ha dato fastidio è che quasi adesso si sta portando dalla parte della ragione buttando in mezzo giustificazione Elia buttando in mezzo giustificazione ah ma non sapete quello che mi ha detto che mi ha fatto non è giustificabile in alcun modo quello che hai fatto fai schifo per quello che hai fatto quindi fa la finita di giustificarti perché c'hai davanti Tyler che magari era anche un tuo mezzo amico non lo so gli ha fatto brutto pure a lui tra l'altro ma no ma perché loro comunque pure Tyler fa parte di quella cultura lì e quindi magari si parlano con quei termini là no perché bro c'è il respect no perché non hai capito si stai stronzato c'è afflexato però io voglio dirvi una cosa ma parla con una persona vera voglio dirvi una cosa è una tendenza di questi ultimi anni non che Tyler sia una persona non vera però fuori fuori dalla gimmick dell'hype quello dico è una conversazione reale ma lui ha provato anche un minimo a contestarlo e quell'altro subito si è incazzato pure come lui ma hai rotto il cazzo pure te e mo cioè voleva una leccata di culo assoluta perché non l'ho vista quindi quello che voglio dire è mi sembra che negli ultimi anni quello che c'è sempre stato quindi questi atti di bullismo di prevaricazione di frustrazione si siano spostati sui social e come è ovvio che sia però in realtà hai solo guadagno questa cosa secondo me inizia la sapete con chi? col brasiliano lui è diventato virale con il video quello in cui stava a petto nudo picchiato dai guardi che sbroccava tutti preso di petto polizia è stato visto da molti come un mito poi il brasiliano un po' in realtà si è redento ha cercato di fare anche cose più ma possiamo dire anche positive cioè ha cercato di spiegare le case la redenzione per me passa in sordina quando va parallela al devo ripurirmi l'immagine per monetizzare è meno dannoso sì è meno dannoso e magari il messaggio che passa diciamo è migliore rispetto a quello là poi c'è stato 17-27 però per me è sempre una presa per il culo e un comunque di marcare sopra degli atteggiamenti che non dovrebbero avere spazio nel web sì è pure vero che ti ripeto magari noi non possiamo sapere le sue intenzioni quindi magari ha fatto per interesse personale l'ha fatto per altri motivi però alla fine continua ad esempio a condannare ciò che ha fatto l'ex amico 17-27 che ha picchiato la ragazza con la spranga poi c'è livello 0 era che ne so tatuaggio addosso tatuaggio in faccia prendo per il culo le guardie strappo un avviso di garanzia salgo sopra una macchina delle cose picchio uno bullizzo uno lo rendo schiavo cioè a un certo punto che fai? si sta spettacolarizzando il teppistaggio insomma la criminalità spicciola sul l'intra grazie a tutti Grazie a tutti.